oh oh i tuoi panini capo che che taglia ora devo prendere il mio film un'altra sbicciatina se sei licenziato questo vale anche per te fanciulla 14 rimani nel segno ora luoghi e azione ops vai a penero peso topolino a pensavo avessi bisogno di aiuto o no stiamo ancora girando mi scusi ama il tuo lavoro nuovo mi topolino wow prendi l'ho capito capito non ce l'ho oh no siamo salvi ahhh cosa faremmo cosa fa cosa cosa fanno gli eroi salva la giornata ta fei tagliare e azione e bello essere il re tagliate via alla tagliate via alla sala di proiezione eh faremmo meglio andarcene di qui in fretta taxi taxi quindi pensavo di poter scappare dopo quello che hai fatto ma mamma di favole mie nuove stelle mie nuove stelle tale gamma tali nu nu sfumature quindi non siamo licenziati non ho non ho una possi non ho una possibilità voi due sapete il brindisi del mondo dello spettacolo davvero davvero no 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 no